Sei CX, Ali? Vorremmo parlarti di una nuova vita su un nuovo mondo. Potrai impegnarti in qualcosa di importante e decisivo. Il concetto è quello di guidare a distanza questi corpi che si chiamano Avatar. Sono il risultato di DNA umano mischiato al DNA degli indigeni. Un marine nel corpo di un Avatar è un mix potentissimo. Ti somiglia? Questo è il tuo Avatar. Rilassati e svuota la mente. Jake è molto semplice. Voglio che tu li conosca da vicino. Voglio che ti guadagni la loro fiducia. Tu non dovresti essere qui. Vattene! È tutta colpa tua. Devi aiutarmi. Fenomenale. Non è che ti sei perso nel bosco, vero? Ti sei dimenticato per quale squadra giochi? Il più forte mangia il più debole e nessuno muove un dito. Hai solo un'ora. Sapevi che sarebbe successo? È cambiato tutto. Questa! Questa è la nostra terra! 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 Questa è la nostra terra!